Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Buongiorno a tutti, io sono Alessia Caserio, vicepresidente dell'Ecorecomo Piemonte. Questa mattina tratteremo un tema particolarmente sentito nella regione, ovvero quello della ricezione del segnale televisivo. Noi crediamo innanzitutto che si debbano attenzionare i comuni collinari, comuni parzialmente montani e quelli totalmente montani. Questo però non implica tralasciare gli altri comuni, anzi, semmai non possiamo permetterci di lasciare indietro proprio nessuno, anche perché abbiamo avuto modo di constatare ancora più nei periodi di lockdown che abbiamo vissuto tutti quanto sia forte l'esigenza di poter garantire a tutti i cittadini di usufruire dei servizi televisivi, siano essi nazionali o regionali, pubblici o privati. Per questo motivo il Ecorecomo si propone di sviluppare un'attività di mappatura del territorio per frequenza attraverso proprio il coinvolgimento dei territori, cercando di andare a definire con precisione quelli che sono le situazioni di criticità. In un secondo momento il coinvolgimento verrebbe esteso anche a tutti gli operatori di rete e alle istituzioni proprio per cercare di andare a trovare delle soluzioni in particolar modo per quelle zone dove addirittura la copertura del segnale ad oggi è ancora del tutto assente. In quest'ottica naturalmente non verrà meno il contatto continuo e diretto con i comuni e con le unioni dei comuni i quali potranno segnalare tutte le problematiche che riscontrano sui loro territori e per questo motivo da parte del Ecorecomo Piemonte verrà sviluppato all'interno del proprio sito internet una sezione dedicata dove troverete della modulistica specifica per la cittadinanza la quale potrà appunto utilizzarla per segnalare qualunque genere di problema legato appunto alla ricezione del segnale televisivo. Vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola al commissario Marco Briamonte. Buongiorno a tutti. Il Corecom si occupa tra le altre cose di un argomento di attualità di vera attualità che è quello che riguarda la disinformazione e le fake news. In particolare nel momento stesso in cui sono in sorte grosse difficoltà dovute alla pandemia e attualmente ahimè alla guerra o ad altri rischi che si profilano quali la siccità diventa sempre più importante riuscire a districarsi nell'informazione ed è per questo che il Corecom ha promosso la redazione di un prontuario in collaborazione con diversi editori locali e regionali nonché con editori quali la RAI, la Stampa, la Repubblica, il Corriere della Sera prontuario che è proprio mirato ad aiutare gli adolescenti in particolare a districarsi in questo mondo dell'informazione e in particolare proprio a capire quali sono gli aspetti più importanti proprio per riuscire a individuare le fake news e la disinformazione pura. A tal fine il Corecom ha avviato anche una collaborazione con l'ufficio scolastico regionale che ha promosso una ricerca, un progetto di ricerca che ha coinvolto diverse centinaia di studenti regionali ai quali è stato sottoposto un questionario avendo ad oggetto proprio le particolarità della disinformazione e delle fake news ad esempio è stato chiesto ai ragazzi se riuscivano a individuare le fake news in quale modo riuscivano a individuarle cosa si può fare per scoprire se un'informazione è vera o falsa cosa si può fare per capire se una fonte è vera o falsa cosa si può fare per individuare esattamente le fonti che possono condurci a capire qual è effettivamente la natura della notizia ed è per questo che il Corecom ritiene che sia importante proseguire questa attività e promuoverà sicuramente ulteriori progetti nel futuro coinvolgendo soprattutto i giovani, gli adolescenti ma anche magari i ragazzi della primaria e comunque in generale il pubblico perché comunque una consapevolezza dell'importanza della fondatezza delle notizie riteniamo che sia fondamentale soprattutto nell'attuale mondo dell'informazione vi ringraziamo per l'attenzione e auguriamo una buona giornata a tutti Siamo con Francesco Costantino, presidente della fondazione e sosteniamoli subito A Francesco Costantino chiediamo appunto che cosa fa la fondazione Sì, grazie Fabio Intanto lasciami salutare la regione che ci ospita tutti i dirigenti ANMIL e delegati territoriali Nel 2005 l'ANMIL, l'associazione nazionale tra lavoratori mutilati in valle del lavoro ha dato vita alla fondazione Sosteniamo di Subito con lo scopo principale di promuovere azioni assistenziali in confronto delle vite e degli infortunati sul lavoro nonché per sostenere alcune specifiche situazioni di difficoltà economica delle rete degli offendi caduti sul lavoro Oggi le fine età della fondazione mirano alla realizzazione di progetti di elevato valore sociale, scientifico promuovendo iniziative che abbiano concreto ricaduto positivo sulla prevenzione degli infortunati e delle malattie professionali ma cerchiamo soprattutto di garantire un'adeguata assistenza a coloro che sono vittime del lavoro e i loro familiari Sono state tra l'altro numerose famiglie a cui è stato devoluto un sostegno economico per affrontare i gravi disagi legati al periodo immediatamente successivo all'infortunio e cerchiamo di contribuire e sensibilizzare le istituzioni per un migliore delle loro condizioni a partire dall'esistenza psicologica Quali sono state le più importanti iniziative promosse dalla fondazione? Possiamo indicarne due in particolare la riduzione della costituzione della rendita ai superstiti dell'INEL è passata da una media di 8-10 mesi a una di 45 al giorno è l'esecuzione in ogni regione di un fondo per le famiglie decaduti sul lavoro In questi vent'anni di vita abbiamo realizzato uno studio di oltre tre anni in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova sulle ripercussioni e i danni a livello psicologico per delle vittime del lavoro all'indomani con un fortunio per dimostrare l'esigenza di prevedere una prestazione specifica da parte dell'INAI L'iniziativa è volta a promuovere l'eferenità della fondazione per raccogliere fonti da destinare ai vittime del lavoro Sono stati banditi diversi concorsi per assegnare concorsi di studio per tesi di laurea in tema di prevenzione per i figli decaduti e degli infortunati sul lavoro in collaborazione con la fondazione Banco di Sardegna e l'INAI Tra i progetti della fondazione c'è anche l'impegno che riguarda le vittime delle mani in particolare abbiamo stipulato un protocollo di intesa con i sindagati CGL, CISF, UGL e la Maggiore Associazione di Vittime dell'Amianto Abbiamo realizzato e promosso campagne di informazione e sensibilizzazione per raccogliere fonte da destinare a progetti di ricerca per la cura delle malattie della prestosi o per lo smaltimento dei siti contaminati Infine, lo scorso anno, grazie alle idee progettuali e donatici dal maestro Francesco Polzani abbiamo allestito in 20 città d'Italia gli alberi della sicurezza realizzati con caschi da lavoro per non dimenticare che gli infortuni sul lavoro non conoscono festività è stata e tutti noi cambiare questa situazione indegna di un paese civile Grazie Ringraziamo Francesco Costantino per queste utili informazioni ricordiamo che la fondazione Sosteniamoli Subito può essere raggiunta online attraverso il sito di Anmil www.anmil.it e sulla pagina Facebook della fondazione Sosteniamoli Subito Grazie e buon proseguimento Buona giornata a tutti sono Paolo Uselini Vice Presidente dell'Associazione Piccoli e Grandi Passi che ha sede in Novara è un'associazione nata per una volontà particolare quella di dare alle scuole del Sacro Cuore le scuole delle Sorelle della Carità che sono in Novara, Romagnano e Pratossesia uno stimolo nuovo di crescita e di ampliamento dell'offerta formativa non solo è nata a piccoli e grandi passi soprattutto per raccogliere anche gli ex allievi e tutti coloro che sono amici e simpatizzanti di questo bel gruppo di lavoro che ci rende tutti più uniti e che soprattutto mette al centro i nostri ragazzi sono tanti i progetti sui quali stiamo lavorando sono tante le iniziative su cui anche e soprattutto in questo post-Covid vogliamo impegnarci prima fra tutti è questa iniziativa di Green Impact un progetto che è volto alla valorizzazione del verde e soprattutto sull'educazione del verde e soprattutto in questo periodo anche mi verrebbe da dire in un tempo di grande difficoltà per la siccità e per una poca attenzione all'ambiente quanto abbiamo da educare i ragazzi in questo senso affinché le nuove generazioni siano il futuro e siano i grandi attuatori del domani ma non solo le nostre iniziative sono volte prima di tutto a far sì che il grande lavoro educativo non si fermi ai giovani o alle loro famiglie ma voglia essere e debba essere soprattutto fatto conoscere anche fuori attraverso i legami territoriali attraverso le necessità del territorio le nostre scuole vogliono rispondere ed essere presenti non solo sull'asse prevalentemente della provincia di Novara ma anche su un territorio più grande perché il nostro desiderio è quello di far vivere ai ragazzi e ai bambini sia della scuola dell'infanzia sia della scuola primaria la nostra bellissima Italia in tutte le sue sfaccettature non solo piccoli e grandi passi vuole essere sempre più luogo di presenza costante per quelle persone che desiderano impegnarsi nel volontariato e sappiamo soprattutto in questa fase quanto il volontariato abbia patito i tempi della pandemia volersi bene non deve essere solo un aspetto sentimentale volersi bene vuol dire prima di tutto far parte di una vita di comunità e la vita di comunità si educa se prima a scuola davvero si vive una vita di comunità per questo piccoli e grandi passi si spende ogni giorno insieme ai suoi volontari per far sì che innanzitutto ci sia il volersi bene e il guardare avanti non solo ci sia una grande testimonianza perché oggi c'è bisogno di questo nel mondo della scuola e nel mondo della società c'è bisogno di sentirsi comunità e soprattutto c'è un grande bisogno di relazioni ecco se qualcosa ci ha insegnato il Covid in questo tempo così difficile è proprio questo necessità di relazioni umane e soprattutto il fatto che tutto ciò che è a distanza che avviene a distanza manca di quell'aspetto di relazione potremmo dire anche adesso noi siamo a distanza però il desiderio di farvi sentire l'importanza della presenza vuole passare anche da questa telecamera ecco perché piccoli e grandi passi guardando il futuro e guardando i progetti futuri desidera spendersi integralmente in tutto questo a favore delle nostre scuole e soprattutto a favore delle comunità in cui loro operano e vivono e quindi l'invito anche a ciascuno di voi non solo di farne parte ma di poter insieme vivere questo cammino che deve essere un cammino di crescita anche per quei luoghi educativi che vanno oltre le scuole mi riferisco ad esempio alla casa Baita di Solivo in Valsesia vicino a Boccioleto mi riferisco allo spazio marino di Pietraligure alla Regine Mondi oppure a Macugnaga alla Casa Sacro Cuore ecco un legame che vada oltre la scuola e che soprattutto voglia farci sentire famiglia a tutti voi grazie e arrivederci Buongiorno sono Rosalba Nattero presidente della Eco Spirituality Foundation organizzazione non governativa in stato consultativo con le Nazioni Unite la Eco Spirituality Foundation è stata fondata da Giancarlo Barbadoro purtroppo scomparso nel 2019 l'intenzione di Giancarlo Barbadoro era quello di fondare un'associazione che diffondesse l'idea dell'ecospiritualità l'ecospiritualità è una filosofia che Giancarlo Barbadoro aveva accognato insieme a rappresentanti indigeni di tutto il pianeta con cui lavorava alle Nazioni Unite e proprio per questo suo lavoro dell'Eco Spirituality Foundation che in difesa dei luoghi sacri e delle tradizioni dei popoli indigeni è stata insignita dall'ONU di NGO in consultative status with the United Nations l'ecospiritualità parla di un contatto con la natura essenzialmente un contatto con la natura che si rivolge anche all'ambiente e agli animali a tutti gli abitanti dell'ambiente quindi al regno vegetale al regno animale c'è un rispetto fondamentale per tutto quello che è il creato e questo va molto in contraddizione con l'antropocentrismo imperante della società maggioritaria infatti i popoli naturali così definiti perché hanno proprio un rapporto con la natura hanno questo rispetto per l'ambiente e per tutto quello che riguarda Madre Terra e i suoi figli i figli di Madre Terra la Ecospirituality Foundation lavora con delle commissioni di lavoro la più attiva è SOS Gaia SOS Gaia si occupa di antispecismo e di animalismo ed è la più attiva tra le commissioni di lavoro della Ecospirituality Foundation ha anche uno slogan salviamo gli animali salveremo il pianeta perché la salvezza degli animali riguarda molto anche la condizione di inquinamento mondiale oggi ci sono molte manifestazioni in difesa dell'ambiente in difesa del pianeta ci sono molte manifestazioni in tutte le parti del mondo in tutte le città del mondo quello che ad esempio Greta Thunberg ha fondato i Fridays for Futures quello che non appare in queste manifestazioni è la causa principale di questa situazione che sono gli allevamenti intensivi ogni giorno vengono sacrificati 200 milioni di animali di terra per il cibo degli umani per quanto riguarda i pesci un miliardo e 300 milioni di individui vengono sacrificati ogni giorno tanto che l'ONU ha lanciato un allarme se vogliamo realmente avere qualche possibilità di salvare il nostro pianeta dobbiamo intervenire su uno dei più pericolosi responsabili del cambiamento climatico e della distruzione e devastazione del nostro ambiente l'allevamento degli animali purtroppo il consumo di carne e latticini secondo la FAO è in costante aumento a livello mondiale le emissioni di gas serra nell'ambiente dovute a tutto il processo produttivo di carne, latte e uova avvengono in maniera diretta attraverso le deiezioni degli animali e in maniera indiretta a causa dello spreco di energie e materie prime di tutto il processo produttivo per quanto riguarda l'inquinamento secondo i dati pubblicati dall'ISPRA le voci più pesanti sono il riscaldamento e gli allevamenti intensivi degli animali ma c'è anche un problema etico come possiamo sopportare la sofferenza a cui vengono sottoposti gli animali negli allevamenti intensivi come possiamo sopportarlo animali che vengono prodotti per essere uccisi e macellati ecco perché S.S. Gaia ha cognato lo slogan salviamo gli animali salveremo il pianeta grazie buongiorno buongiorno a tutti sono Tommaso Varaldo presidente della fondazione AIEF per l'infanzia e l'adolescenza la fondazione AIEF nata per tutelare e salvaguardare i diritti dei bambini e dei giovani è impegnata sin dall'inizio del conflitto ucraino per aiutare e salvaguardare i bambini vittime di questa terribile guerra la fondazione AIEF ha posto in essere due missioni umanitarie nei mesi di aprile e di maggio che hanno portato in salvo a Torino 97 bambini ucraini con le loro 35 mamme la fondazione si è occupata e continua a occuparsi insieme alla protezione civile della regione Piemonte della loro accoglienza e del loro aiuto ma in Piemonte a maggio sono arrivati e sono accolti quasi 10.000 profughi ucraini 107.000 in Italia di cui quasi 40.000 sono bambini a 30 anni dalla ratifica della convenzione ONU sui diritti del fanciullo sono ancora tantissimi i diritti violati dei bambini e lo sono ancora di più di quelli dei bambini ucraini pensiamo al diritto alla casa al diritto alla famiglia al diritto alla salute e al diritto all'istruzione proprio il diritto all'istruzione è uno dei tanti diritti che il nostro paese sta cercando di tutelare accogliendoli nelle nostre scuole nella nostra rete del territorio la fondazione ha acquistato e sta acquistando i tablet per consentire a tanti bambini ucraini di poter seguire in didattica a distanza la scuola del proprio territorio ma c'è molto da fare ed è per questo che la nostra fondazione ha messo a disposizione dei cittadini ucraini ma anche dei cittadini delle famiglie italiane che stanno accogliendo uno sportello di ascolto aiuto e orientamento in tutte quelle che possono essere le problematiche collegate all'inserimento dei minori ucraini nella scuola italiana ho citato la convenzione ONU sui diritti del fanciullo perché questo è il nostro punto di riferimento il faro a cui tutti dobbiamo guardare per tutelare i bambini che rappresentano il nostro futuro vi ringrazio per l'attenzione ricordandovi che in questo sportello potete trovare un punto di riferimento e di ascolto grazie a tutti e buona giornata i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione grazie a tutti